buonasera mi presento sono maurizio orfino amministratore di materica questa occasione fantastica raccoglie due esperienze fondamentali presentare il kimono d'oro dell'amico tiziano guardini e ospitati da dpm da fabiana dal suo fantastico team materica è un'azienda che fa della metallizzazione il suo core business sostanzialmente riportiamo fili metallici su superfici diverse ed eterogenee il nostro intento è quello di trasformare la materia creando un'emozione noi di materica ci sentiamo nel cuore degli alchimisti quindi a noi piace sperimentare continuamente e affrontare nuove sfide quindi come abbiamo affrontato la sfida del kimono chissà cosa ci porterà il futuro nuove storie nuove sfide nuove emozioni